Ma ci iniziassimo a fare qualcosa? Bella idea, io vado a farmi una doccia. Non sbagliare, no problem. La risoluzione è il mattino. Secondo me, in questo film dovremo mettere degli uccelli. Dai, che ci siamo. Allora, scena 1. Dentro, fuori. Dentro, fuori. Dentro, fuori. Oh! Ehi, va! Ehi, Piero! Aiuto, è arrivato l'attore! Opla! E ora è. Buongiorno! Ragazzi, ho trovato il posto. Ma è c'è! E Fabrizio? E Fabrizio è là. È tutto pronto. Manca soltanto il cavo. O si parta o si resta.